Ciao a tutti, oggi voglio dimostrare un pochino la buona, diciamo, home made. Questi due pedalini che mi sono stati mandati dalla Verbre Sound sono dei pedalini artigianali costruiti a Sceleali in Sicilia e praticamente me li ho mandati Antonino Cocco che ringrazio per la fiducia e per questo onore di provare questi due pedalini che mi sono rimasti veramente impresso per la qualità, il dinamismo per la naturalezza del sound. Quindi si tratta di un gain, di un booster, un clean booster quindi praticamente non altera il sound, lo amplifica anzi crea delle armoniche bellissime. Non va a distruggere il suono ma lo rende naturale. Poi risponde perfettamente alla dinamica, è bellissimo, pure nel jazz, sentiamo la differenza tra senza niente, il booster, il rise. e anche nel funky, sentiamo la differenza, senza il rise, il booster, sentiamolo, come capola dinamica, come il sapevo. e sentiamo invece lo stream roller, che sarebbe l'overdrive, quindi ha diverse combinazioni, che io ci sto lavorando stamattina alla prima volta che mi ritengo, ma sarebbe assolutamente innamorato. Allora, sentiamo qui sopra, senza il booster, è solo l'overdrive, lo stream roller. Allora, una cosa bella che risponde proprio alla dinamica, questo è un suometrazione. Un secondo dell'attacco che gli diamo, è solo, diciamo, io ho messo un minimo, un quarto di drive, più tempo, un po' più fuso, più pulito, per festeggiarci un po' più in stile. In più, se io metto il single, il coin, metto proprio alto. Aggiungiamo il rise, il booster, sentiamo la differenza. Ti apprende vita a guadagnare amore. Qua sono con il single call, ma mettiamo il downbacker. Vediamo la differenza, senza booster. Boost, booster. Quindi è veramente un bellissimo lavoro. Mi sentirete presto nei concerti live, e nella registrazione perché sono proprio innamorato di questi locali. Grazie ancora Antonio Poco e tutti voi che mi ascoltano. Buona giornata.